Torniamo a parlare di infortuni sul lavoro, numeri ancora in crescita nei primi quattro mesi dell'anno. In Veneto ho denunciato il 45% in più di episodi con un boom di casi che riguardano le donne. Vi presentiamo la storia di Marco, caduto da un'impalcatura nel 1995. Matteo Mokorovicic. Una volta c'era molta più negligenza. Adesso ci sono molti più controlli, o forse non tanti controlli a sto punto, perché se i numeri continuano a salire, resto un po' così. A Rovigo Marco Calcinotto vive da solo, in una casa organizzata perché tutto sia raggiungibile muovendosi in carrozzina. La sua vita è cambiata quando aveva 24 anni, il 5 ottobre 1995. Faceva l'artigiano edile, è caduto da un'impalcatura. Un infortunio sul lavoro, come i 30.000 denunciati all'INAI nei primi quattro mesi di quest'anno in Veneto, cresciuti di quasi il 45% rispetto a un anno fa, soprattutto tra le donne, sottolinea la CGL, più 79%. Marco è senza parole, ma pensa di sapere perché rispetto a quasi 30 anni fa, poco o nulla è cambiato. La leggerezza, la troppa sicurezza, quindi che ne so, il casco non me lo metto perché tanto non mi succede niente, le scarpe antinfortunistiche, ma sì fa caldo, mi metto le ciabatte, quindi invece bisogna rispettare tutte le normative di sicurezza perché salvano la vita. Io ho avuto appunto una lesione alta, che è una cervicale C6-C7, per fortuna incompleta, vuol dire che può succedere che qualcosa resti come funzionalità.